musica dunque tu mi stai dicendo che l'abigamia sarebbe il menage perfetto? via andrea più corretto e poi la parte come molte civiltà africane civiltà africane? presso il kurumba è una civiltà avanzatissima vabbè vabbè senti solo quando ci fa comodo le popolazioni africane sono civili ma dai sai cos'è? che io me le torno dal mio marito che mi aspetta ah si quale di due? dai ci vediamo lunedì d'accordo? va bene fai buon viaggio Giorgio e mi raccomando non strapazzarti troppo sopra quelli no stai tranquillo i topi dalle origini ai giorni nostri su mostri ritrovi non mi hai ancora fatto leggere niente di questo tuo nuovo libro no e' una sorpresa REALLY ma di solito almeno ne ho riesce no 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 io strappor mi racconti Danny ci vediamo dopo che ciao vabbè ma noi ci vediamo dopo ma se appena arrivate già mi lasci solo Danny te l'ho detto devo trovare la mia amica,la mia adeditrice te l'ho detto no Che poi se ci pensi è assurdo Lei ci predisce per quattro anni Conducendo una perfetta doppia vita E poi per una cazzata che abbiamo fatto noi Per giunto con gli acchi Lei sparisce senza darci nemmeno il diritto di replica Non è giusto Io mi sento Depauperato Io mi sento una merda È vero Non conosciamo Sara però Però è l'unica cosa che ci tiene ancora legati a Teresa Maria Teresa Maria Teresa Maria Teresa Maria Teresa Io Capo Curumba dichiaro mio figlio Per consistenza e colore Oppure Oppure No, no, sentite Un sacerdone No, 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 no Maria Teresa Maria, Teresa Maria E' l'aria Maria E' l'aria